Musica Cari amici che come me volete sapere chi è di scena un saluto da Nat Russo con questo nuovo appuntamento con le riflessioni sullo spettacolo oggi parliamo dell'agosto 1959 che erano nella hit parade delle canzoni più seguite di quegli anni e di quel mese estivo beh al primo posto Marino Barretto Junior con Arrivederci seguito da Frankie Avalon con Venus e infine al terzo posto Fred Buscaglione con Guarnac e Luna questo si riproporrà per quattro settimane ma in classifica vediamo che ricompare Polanca con Lonely Boy Adriano Celentano con Il tuo bacio è come un rock e Gioi Damiano con Forever per questa settimana è tutto un saluto da Nat Russo a presto con Chi è di scena a presto con Chi è di scena